Ora mettiamo che io voglio utilizzarlo per un sito web ad esempio, voglio che il mio indirizzo sia fisso e che non cambia ogni volta perché sennò vado a confondere tutti quanti e non visitano più la mia pagina web, quindi gli diamo innanzitutto per dobbiamo conoscere la nostra identità, quindi ipfs id e mi stampa il mio id, eccolo qua, quindi questo qui che finisce con zbs e posso utilizzarlo per e condividere ad esempio la cartella che abbiamo già creato, tutorial ipfs, quindi come faccio? Questa volta dovrò pubblicarlo in modo diverso, quindi ipfs, innanzitutto devo ricavarmi il lascio della cartella, quindi add tutorial ipfs, devo dargli il recursive, ok? Eccola qua, z4y, ed ora utilizziamo l'interplanetario name system, quindi ipfs, name, publish, questa è quella sequenza da utilizzare, e gli diamo questo hash, quindi invia, ifps non esiste, ipfs, ok? Publish. Attendiamo un attimo che venga distribuito ai peers connessi, agli altri che hanno client connesso, dovrebbe metterci un po', eccolo qua, ora è stato pubblicato a questo indirizzo, questo è il nostro indirizzo ipns, che è sostanzialmente quello che abbiamo visto prima attraverso ipfs e id, ora facciamo un test, andiamo direttamente qua sul nostro gateway, ipns, cambia adesso, e gli diamo il nostro hash, invio, ci vorrà un attimino in più per risolverlo, ok, il tempo potrebbe variare a seconda della vostra velocità di connessione, nel mio caso sono in un paesotto, quindi è lenta, e abbiamo la nostra struttura di cartelle, perfetto, ora io voglio cambiare qualcosa, questo qui è l'indirizzo, vado a cambiare, ad esempio gli aggiungo un file, file 57, invio, e ora qui io non lo vedo, in quanto devo ancora dargli un ipfs add r tutorial, appunto ipfs, vedete che è cambiato l'hash della nostra cartella, quindi copia, e dovrò dargli come prima, come prima, un ipfs name publish, questa volta con il nuovo hash della cartella alla radice, quindi publish, attendiamo un attimo, e in pochi istanti dovremmo ricevere, ok, eccoci qua, come potete vedere il nostro hash è sempre lo stesso, zbs, l'indirizzo è sempre lo stesso, zbs, e se gli do invio, a questo punto dovrebbe comparire il file numero 57, attendiamo e vediamo, ok, e come potete vedere ora il file 57 ha lo stesso indirizzo e disponibile, quindi è possibile creare una serie di contenuti mutevoli all'interno dello stesso hash, quindi, ora ad esempio, se io volessi indirizzare le persone a file 57 soltanto, o meglio, soltanto la cartella, torniamo avanti, soltanto la cartella tutorial, io posso semplicemente entrare all'interno e dopo questo file, se io non gli cambio il nome, scrivo tutorial, se io condividerò questo indirizzo, sempre, la struttura rimarrà sempre la stessa, finché io non cambio qualcosa, ad esempio, se io questo lo sposto su cartella ulteriori, naturalmente il tutorial non funzionerà più e sarà un link rotto, ma è come se fossimo su una normale pagina web. Ok, e voi dite, sì, va bene, ma questo mi permette soltanto di creare un contenuto dinamico. No, in realtà potete creare più chiavi.